Allora Marcos, un risultato 8 a 1, un buon risultato nella prima giornata di questo triangolare, che partita hai visto? È stata una partita di là di risultato, una partita difficile, perché si è visto il primo tempo, si è chiuso 3 a 1, addirittura loro sono andati in vantaggio, si sapeva che era così. Io credo che il risultato sia stato quasi live, perché abbiamo sbagliato molto poco, abbiamo sfruttato anche bene quello che abbiamo sbagliato poco lì davanti in sottoporta, quello che non è successo lì in Coppa Italia, quello che abbiamo sbagliato lì forse oggi abbiamo messo dentro, e quindi io credo che il risultato è un po' bugiardo da quello che è stata la partita, però è merito di questa squadra, che si è preparata bene, come avevamo detto prima, per non sbagliare niente e portare a casa il risultato buono. Ora c'è da attendere la partita tra Real Molfetta e Ariccia e poi l'11 maggio ci sarà la partita decisiva, cosa pensi di questo? Sicuramente credo che il Molfetta adesso in casa vorrà riscattarsi di questo brutto risultato, credo che sia giusto così, si è vista che è una squadra che lotta, che mette tutto e quindi sicuramente loro proveranno a portare almeno una vittoria a casa, davanti al proprio pubblico e poi avremo queste due settimane qua per pensare e preparare bene quella partita da Ariccia, che sarà decisiva e fare come oggi, preparare nel migliore del mondo e poi magari portare un'altra vittoria a casa e andare in finale.